Un aperitivo per incontrarsi. Per la prima volta la Settimana Internazionale del Sordo organizza a Varese eventi e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema sordità. Si parte domenica 22 con la visita guidata per soci ENS a Villa Panza, poi a cavallo tra la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, il 23 settembre, e quella europea delle lingue, il 26. Mercoledì 25 settembre l'ENS di Varese propone Happy Lease, aperitivo per sordi e udenti all'antico Caffè Bosisio in piazza Montegrappa, dove ci si potrà avvicinare alla lingua dei segni e conoscere la cultura dei sordi. Infine sabato 28 a Milano è prevista una grande manifestazione per la Giornata Mondiale del Sordo. L'obiettivo di questa serata è dare visibilità a una lingua che non è ben conosciuta e riconosciuta. Perché in Europa la lingua dei segni è riconosciuta in tutti gli stati, ma in Italia no. Vogliamo dare visibilità quindi alla LIS e garantire accessibilità a chiunque venga alla serata e fare integrazione di sordi e udenti. Chiunque sappia o non conosca la lingua dei segni sarà benvenuto tra noi, divertendoci insieme e assaggiando un po' di bontà e di lingua dei segni, che tra l'altro è inserita nella settimana della Insubrie Languages Week.